Nel 2021 la polizia di Salt Lake City scoprì un video molto strano in un cellulare. All'inizio sembrava qualcosa di molto leggero, spensierato e felice, ma guardandolo tutto, gli agenti si resero conto di quanto in realtà fosse angosciante. E scoprendo la storia dietro questo video, rimasero tutti a dir poco sconvolti. Più avanti nel video vi farò vedere un pezzo di questo filmato, e vi avviso, sarà davvero disturbante. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi devo dirvi che in realtà avrei voluto parlarvi di due storie diverse, ma molto simili tra loro. Però ho cambiato idea perché è giusto approfondire singolarmente ognuna di queste storie e ognuna delle persone protagoniste di queste storie. Quindi molto presto, non so ancora quando, oltre ai video che escono normalmente il venerdì, uscirà anche un video in cui vi racconterò l'altra vicenda strettamente collegata a questa. In realtà non sono proprio collegate persone, collegate tra loro, no. Solo che sono molto simili sotto alcuni aspetti, quindi volevo inserirle nello stesso video, ma alla fine ho cambiato idea. Vabbè, non riesco a darvi una data precisa perché devo partire e non potrò registrare niente, non avrò la videocamera per almeno una settimana. Per cui ve lo dico già adesso, spero che rimarrete nei paraggi. Ma ora cominciamo davvero. Il 28 gennaio 1976, in una piccola cittadina dell'Oregon di nome Estacada, nasce Daniel Halsett. La famiglia di Daniel ha una fattoria per cui da quando è molto piccolo comincia ad abituarsi a lavorare duramente e svegliarsi prestissimo. Crescendo in quest'ambiente impara valori molto importanti, come l'importanza del lavoro e della famiglia. La famiglia Halsett, infatti, faceva praticamente ogni cosa insieme. Lavoravano, mangiavano, chiacchieravano e passavano praticamente tutte le loro giornate, tutti insieme. Una cosa che ha sicuramente insegnato a Daniel ad apprezzare tantissimo il tempo passato in famiglia. E vedrete che questa cosa rimarrà anche nel suo futuro. Ma comunque, alle superiori, Daniel diventa un ragazzo pieno di qualità. Emana proprio un'energia positiva a tutti. Ha questo sorriso proprio contagioso e ogni cosa che fa, la fa benissimo senza sforzarsi neanche troppo. In quegli anni si appassiona alla musica, specialmente al piano e alla batteria. Inoltre, è un ragazzo molto atletico e piacente. Insomma, un po' tutti volevano essere come lui. Ma nonostante tutte queste belle cose, nel 1994 purtroppo accade qualcosa che gli spezzò il cuore. Quell'anno, purtroppo, suo padre morì improvvisamente a causa di un aneurisma cerebrale. E questo evento tragico gli scombussolò un po' tutta la vita. Daniel era molto legato a suo padre e, come giusto che sia, a 18 anni contava ancora molto su di lui per tantissime cose. Ma nonostante questo, diciamo che il giovane Daniel prova ad andare avanti con tutte le sue forze. Nel 1995, quindi, si diploma alle scuole superiori e si trasferisce a Salem, nell'Oregon. Lì frequenta la triennale di musica e si laurea senza troppi problemi. Dopodiché rimane ancora un po' a Salem e si laurea nella magistrale in business. Proprio durante questi anni al college, Daniel conosce una ragazza di nome Elizabeth Sworak. Elizabeth è nata e cresciuta a Salem e anche lei, come Daniel, è una grande lavoratrice, è molto bella e riesce a fare tutto con estrema facilità. Cioè, sembra che non si impegni neanche e qualsiasi cosa che fa riesce a farla benissimo. Quindi, quando si mettono insieme, agli occhi di tutti sono proprio la classica coppia perfetta che si vede nei film. Ed era davvero così. Nel 2001, quindi, poco dopo la laurea magistrale di Daniel, i due decidono di sposarsi. Negli anni successivi mettono al mondo tre figli, due bambine e un bambino. E dopo solo cinque anni di matrimonio decidono di trasferirsi a Las Vegas. Vanno lì per via del lavoro di Daniel, che aveva recentemente fondato un'azienda informatica. E i suoi clienti, per la maggior parte, si trovavano proprio a Las Vegas. Ma la stabilità della famiglia comincia presto a vacillare per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, sua moglie Elizabeth, che da sempre avrebbe voluto entrare a far parte del mondo della politica, nel 2010 decide di partecipare ad una campagna elettorale del Nevada. Ciò significa che sarebbe dovuta stare spesso fuori casa a lavorare per le elezioni. Quindi avrebbe potuto passare molto meno tempo con i bambini. Per questo, prima di cominciare con la campagna, chiese a Daniel se lui fosse d'accordo. E lui accettò senza pensarci due volte. Per cui in questo periodo Daniel non solo deve occuparsi, come sempre, del suo lavoro, ma deve anche essere praticamente l'unica figura genitoriale per i bambini. Cosa decisamente impegnativa. Ma lui lo fa. Perché crede sia giusto così. E crede che anche sua moglie debba pensare alla carriera e realizzare i suoi sogni. Tuttavia diventa un periodo molto faticoso per lui. Quando i bambini tornano da scuola, passa molto tempo con loro. Li porta al parco giochi, a fare passeggiate, gite fuori porta, a mangiare fuori. E in sostanza cerca di essere il padre migliore che può essere. E ci sono anche dei video che testimoniano questo suo impegno. Poi quando arriva la sera e i bambini vanno a dormire, lui si mette davanti al computer e lavora fino a tardi. Direi che si tratta di una routine sfiancante. Ma tutti questi sacrifici, per fortuna, ripagano. Perché qualche mese più tardi, il 2 novembre del 2010, Elizabeth a soli 27 anni vince le elezioni e diventa la donna più giovane ad entrare nel senato del Nevada. Era davvero la prima volta che una donna così giovane riusciva a ricoprire una carica del genere. Per cui erano tutti sorpresi e anche contenti per lei. Le cose sembravano andare davvero nel migliore dei modi. E Daniel, come potete immaginare, a questo punto è estremamente orgoglioso di sua moglie. È davvero il suo fan numero uno, possiamo dire. Ma purtroppo, molto presto, questa vita apparentemente perfetta cadrà a pezzi. Dopo non molto tempo dalle elezioni, Daniel comincia a notare che sua moglie scambia tantissimi messaggi con un certo Tiger Helgelian, un uomo che lavora in politica. Così iniziano a venirgli dubbi e preoccupazioni e decide di scrivere direttamente a questo Tiger. Sostanzialmente gli chiede per favore di lasciare in pace sua moglie e gli dice che la sua famiglia non vuole avere niente a che fare con lui. Ma i messaggi, le chiamate e in generale le interazioni tra Tiger ed Elizabeth non si fermano. E alla fine, nell'ottobre 2011, Daniel scopre che i due erano partiti da soli per un lungo viaggio di lavoro. In altre parole, realizza che sua moglie molto probabilmente lo stava tradendo. Così non appena torna a casa da questo viaggio, Daniel corre da lei e inizia ad accusarla di essere infedele e di averlo tradito. La discussione si accende molto in fretta. I due litigano come non avevano mai fatto prima, ma per fortuna non si arriva ad aggressioni fisiche. Ad un certo punto semplicemente Elizabeth dice a Daniel di fermarsi e lui se ne va in un'altra stanza. Soli cinque giorni dopo però, Elizabeth lo denuncia accusandolo di averla toccata in maniera intima senza il suo consenso. Peccato però che di questa cosa in particolare non ci sono prove. Ma nello stato del Nevada, forse in tutti gli Stati Uniti, la denuncia, quanto ho capito, è comunque abbastanza. E infatti Daniel viene condannato a sei mesi di libertà vigilata. E viene anche iscritto nel registro dei molestatori. Dopo tutto questo casino, ovviamente, Daniel ed Elizabeth decidono di divorziare. E l'intero processo del divorzio viene seguito da tantissime persone, perché lei era una figura politica importante. E ovviamente la gente del Nevada voleva vederci chiaro. Specialmente perché il suo cavallo di battaglia durante quella campagna elettorale era la promozione di un modello di famiglia pieno di valori, felice, fedele, tradizionale. Quindi ritrovandosi in un divorzio, accusata di aver tradito il marito, capite che la gente rimane un attimo scioccata. Ma comunque il divorzio viene ultimato nel 2012, e la custodia dei tre figli viene data ad Elizabeth. E viene data a lei nonostante fosse stato lui a crescerli e stare con loro per un bel po' di tempo. Ma la giustificazione a ciò è il fatto che Daniel ormai è registrato come molestatore sessuale, quindi in sostanza non può farci nulla, non può tenere i bambini. Elizabeth, d'altro canto, dato che ha creato scandalo con la questione del tradimento e del divorzio, viene obbligata a dimettersi dal senato. Così fa le valigie, prende i bambini, e si trasferisce in Alaska. E indovinate con chi si trasferisce in Alaska? Esatto. Con Tiger. Nonostante avesse sempre sostenuto di non aver mai tradito Daniel con lui, alla fine si trasferiscono insieme, e addirittura si sposano poco dopo. Però in realtà, noi non sappiamo come sono andate davvero le cose. Cioè, è chiaro che se Daniel avesse davvero molestato sua moglie, si sarebbe meritato la denuncia e tutto il resto. Ma, se non l'avesse fatto davvero? Come vi ho detto, non c'era alcuna prova di queste sue azioni, quindi, immedesimandomi in lui, non posso far altro che pensare che quello deve essere stato un periodo veramente di inferno. Cioè, da un momento all'altro, tutta la sua vita è andata in frantumi. È stato tradito, è stato accusato di molestie, e adesso gli è stata pure tolta la costruita dei figli. Deve essere davvero una cosa terribile. Ribadisco però che se davvero ha molestato sua moglie, allora ci sta che non gli hanno dato la custodia dei figli. Ci manca. Ma comunque Daniel da questo momento si ritrova a dover cominciare praticamente tutto da capo, da solo. Cerca di farsi forza e dedica tutto se stesso al lavoro. Prova a non pensare troppo e si focalizza sui suoi obiettivi. Quando può, va anche a trovare i suoi figli in Alaska, ma dato che i rapporti con l'ex moglie non sono fantastici, ogni volta è estremamente difficile. Tuttavia prova davvero ad andare avanti nel migliore dei modi e dopo un po' di tempo conosce anche un'altra donna, una donna di nome Bogdana, con cui finisce per sposarsi. In questo periodo sembra che Daniel si stia riprendendo davvero. Sembra determinato e felice. E sempre in questo periodo comincia a pubblicare tantissimi contenuti sui social. In particolare su Instagram, Facebook e YouTube. E si tratta di foto e video positivi, con messaggi motivazionali, piccoli istanti felici, o in generale post sul come essere una persona migliore. Si vede proprio che in quel periodo cercava di migliorarsi e di essere sempre positivo. Poi vabbè, pubblica anche foto e video dei suoi viaggi in giro per gli Stati Uniti, selfie in palestra, ma cosa più importante, specialmente su YouTube, caricava video insieme ai suoi tre figli, perché loro erano la cosa che contava di più al mondo per lui. E dai video si vede proprio che li amava con tutto se stesso. Insomma, da fuori, agli occhi degli altri, sembra che tutto finalmente si sia sistemato. Daniel sembra in qualche modo felice. Sembra. Nel 2019, infatti, Daniel riceve un altro duro colpo. La sua nuova moglie, Bogdana, decide di divorziare. Non so molti dettagli riguardo questa rottura, ma fatto sta che ancora una volta l'uomo si ritrova da solo e anche se sui social continua a postare le solite frasi positive e motivazionali, non sta davvero bene. Ma ecco che finalmente succede qualcosa di positivo. Elizabeth, la sua prima ex moglie, decide di tornare a Las Vegas con i figli. E questo non perché voleva riconciliarsi con Daniel, ma piuttosto perché sia a lei che ai bambini, ormai adolescenti, piaceva molto vivere a Las Vegas. Quindi finalmente Daniel ha la possibilità di vedere i suoi figli quando e quante volte vuole. È davvero felicissimo. E infatti comincia subito a vederli più spesso che può. Pensate che addirittura nel 2020, la sua figlia più piccola, che ormai aveva 16 anni, si era praticamente trasferita da lui. Lei si chiama Sierra Halset e almeno in teoria a questo punto della vicenda ha un rapporto veramente magnifico con Daniel, tanto da trasferirsi a casa sua appunto. Legalmente, dato che nel 2020 era minorenne e non avrebbe potuto vivere da lui, era ancora sotto la custodia di sua madre. Però diciamo che nonostante Elizabeth fosse contraria, Sierra voleva stare a tutti i costi da suo padre e anche lui la voleva in casa. Diciamo che però non è una situazione troppo tranquilla, ecco. Tanto che nell'agosto del 2020, Daniel decide di riportare Elizabeth in tribunale per provare ad acquisire la custodia di Sierra che era l'unica minorenne fra i tre figli. Questa nuova battaglia giudiziaria però non finisce bene perché dopo tanti scontri in attesa di una decisione finale all'inizio del 2021 il giudice decide di far tornare Sierra a casa di sua madre. Ripeto, in attesa di una decisione finale perché il processo era ancora in corso. Ma comunque sconfortato, quel giorno Daniel riporta Sierra ed Elizabeth e torna a casa sua. Quella stessa notte però la sedicenne scappa dalla casa di sua madre e torna da Daniel. Cioè, dalle sue azioni sembra proprio che ami tantissimo suo padre e che voglia stare da lui ad ogni costo anche a costo di andare contro la legge e suo padre è più che felice di questa cosa infatti la riaccoglie a braccia aperte. Devo dirvi però che questa situazione non faceva bene a nessuno soprattutto a Sierra che si era ritrovata in mezzo a questo casino contro la sua volontà. Suo padre sapeva che c'era qualcosa che non andava sapeva che Sierra stava soffrendo e aveva molti problemi così aveva già deciso di farle iniziare un percorso di psicoterapia ma ormai era troppo tardi. I danni causati da questa situazione erano evidenti ma nonostante tutto Daniel prova a prendersi cura di Sierra al meglio delle sue possibilità. Prova a proteggerla e prova anche ad aiutarla in tutti i modi anche vietandole alcune cose o persone che secondo lui le avrebbero fatto male ma a questo ci torneremo più avanti perché nell'aprile del 2021 accadde qualcosa di davvero molto strano. Nella mattina dell'8 aprile sul conto bancario di Daniel vengono rilevati vari prelievi di centinaia di dollari in diversi ATM sparsi in Las Vegas. Questo conto bancario in particolare era un conto condiviso tra Daniel e la sua seconda ex moglie Bogdana quindi la banca rilevando questi movimenti sospetti manda varie notifiche sia al cellulare di Daniel che a quello di Bogdana e la donna sapendo di non essere stata lei a prelevare quei soldi prova a chiamare Daniel ma lui non risponde al telefono allora gli scrive dei messaggi ma ancora una volta nessuna risposta per cui un po' preoccupata decide di contattare la madre di Daniel che si chiama Christine perché sapeva che i due si sentivano quasi ogni giorno quindi le spiega la situazione e a sua volta Christine prova a contattarlo ma senza successo per cui sempre Christine decide di scrivere a sua nipote a Sierra e questa risponde che il telefono di Daniel aveva dei problemi non stava funzionando bene ma dice a sua nonna di non preoccuparsi perché si sarebbe tutto risolto entro la notte seguente Christine leggendo queste parole si tranquillizza un po' ma trova comunque strano e anche un po' snervante il fatto di non poter comunicare con suo figlio con Daniel tuttavia prova a non pensarci troppo e decide di far passare del tempo in attesa di un messaggio o una chiamata ma il tempo passa e la mattina seguente Christine prova di nuovo a contattare sia suo figlio che sua nipote Sierra dice a Sierra di essere molto preoccupata e le chiede per favore di parlare con Daniel ma lei tira fuori una sorta di scusa dice a sua nonna che suo padre è in doccia e che deve prima parlare al telefono con la sua proprietaria di casa una cosa del genere fatto sta che Christine si preoccupa ancora di più leggendo questo messaggio a questo punto è chiaro che c'è qualcosa di strano Christine sa che c'è qualcosa che non va ma ancora non sa cosa quindi ormai quasi in panico la donna contatta la proprietaria di casa di Daniel e le chiede gentilmente di andare a controllare in casa sua quest'ultima che si chiama Peggy le dice qualcosa del tipo si va bene ma non sarò a casa prima di qualche ora allora Christine le dice ok ma dopo un po' di tempo in preda al panico chiama il 911 per richiedere un controllo nella casa di suo figlio ma intanto in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine la proprietaria di casa Peggy arriva sul luogo insieme ad un amico sono circa le 2 del pomeriggio e i due avvicinandosi all'entrata di casa notano che l'auto di Daniel non c'è non sentono nessun rumore provenire dall'interno dell'abitazione così si avvicinano alla porta e provano a bussare ma nessuno risponde così provano ad aprire la porta e si accorgono che non era chiusa chiave cosa molto strana quindi entrano e quasi subito si mettono ad urlare terrorizzati escono correndo e anche loro chiamano subito il 911 gli agenti stavano già arrivando ma Peggy e il suo amico non lo sapevano per questo hanno chiamato il 911 anche loro ma comunque arrivano le pattuglie gli agenti parlano con Peggy e il suo amico ed entrano infine anche loro in quella casa e quello che trovano al suo interno è semplicemente raccapricciante ma al tempo stesso per loro non ha alcun senso perché? cos'è successo? per rispondere dobbiamo tornare indietro al giorno precedente l'8 aprile 2021 quella mattina un uomo e una donna sono stati ripresi da alcune videocamere di sorveglianza mentre prelevavano dei soldi in vari ATM di Las Vegas e stavano usando proprio la carta di Daniel a quel punto la banca ha inviato quelle notifiche di cui vi ho parlato sia a Daniel che a Bogdana ma i due individui sono stati ripresi anche altre volte durante la giornata e grazie a queste riprese fatte da varie videocamere gli investigatori sono riusciti a ricostruire i loro spostamenti prima si sono recati in un supermercato e hanno pagato con la carta di Daniel poi sono andati in un altro supermercato e ancora una volta hanno usato la carta di Daniel dopodiché si sono recati a casa dell'uomo dove hanno passato la notte e il giorno seguente l'auto di Daniel è stata ripresa mentre lasciava Las Vegas verso le 10 e 20 del mattino ovvero circa tre ore e mezzo prima che Peggy e il suo amico entrassero in casa sua questi sono tutti indizi e prove molto importanti tuttavia la vera risposta a ciò che c'era in casa di Daniel arriva quattro giorni dopo il 13 aprile perché totalmente per caso a Salt Lake City la polizia trova i due ragazzi che erano stati ripresi dalle videocamere mentre usavano la carta di Daniel e nel cellulare della ragazza trovano un video scioccante un video che mette insieme tutti i pezzi del puzzle guardate come avete visto la ragazza del video è Sierra Alcet la figlia di Daniel e sostanzialmente sta scherzando insieme al suo ragazzo riguardo al fatto di aver ucciso qualcuno è davvero assurdo cioè questo video fa davvero rabbrividire il ragazzo che vediamo insieme a Sierra si chiama Aaron Guerrero all'epoca aveva 18 anni e si frequentava con lei da neanche un anno ma comunque dal video la polizia riesce finalmente a ricostruire tutti gli eventi e preparatevi perché ciò che è successo non ha davvero alcun senso se ricordate il mattino dell'8 aprile Aaron e Sierra sono andati in quei supermercati a fare acquisti con la carta di Daniel e hanno comprato cose come guanti candeggina una sega circolare e vari altri oggetti che possono essere usati come armi dopodiché si sono diretti verso casa di Daniel e ciò che è accaduto al suo interno non è stato reso pubblico ma con i dati e le informazioni che abbiamo non è difficile ricostruire le loro azioni dobbiamo tenere a mente che Daniel amava davvero i suoi figli specialmente Sierra era davvero molto legato a lei il loro rapporto padre figlia era speciale per cui quando lei si è presentata a casa insieme ad Aaron lui non aveva motivo di preoccuparsi o stare allerta era sua figlia ed era semplicemente tornata a casa ma in una situazione del genere sarebbe stato estremamente facile fargli del male perché appunto non si aspettava che qualcuno potesse fargli del male e cavolo direi che nessuno se lo aspetterebbe non dalla propria figlia non da una persona che in teoria ti ama ti apprezza e vuole stare sempre con te quello che è successo ragazzi è semplicemente straziante come vi dicevo non sappiamo come l'hanno fatto ma sta di fatto che i due adolescenti una volta a casa di Daniel in qualche modo gli hanno inflitto oltre 70 ferite da taglio la maggior parte delle quali dietro la testa poi ad un certo punto hanno infilato Daniel in un sacco a pelo lo hanno cosparso di liquido infiammabile e gli hanno dato fuoco ed è più che probabile che almeno per un secondo o un minuscolo lasso di tempo Daniel si sia reso conto di cosa stava accadendo probabilmente ha realizzato che la sua amata figlia insieme al suo ragazzo stava cercando di ucciderlo e questa cosa per lui deve essere stata davvero atroce perché per quanto ne sapeva a Sierra non aveva alcun motivo per fargli del male figuriamoci per ucciderlo davvero ragazzi non aveva senso e il fatto che probabilmente ha capito che sua figlia lo stava uccidendo fa davvero venire l'angoscia specialmente sapendo come se la rideva Sierra in quel video tre giorni dopo l'omicidio cioè tutta questa vicenda non ha senso per quanto è disturbante ma tornando a noi una volta tolta la vita a Daniel i due ragazzi hanno provato in maniera molto goffa a sbarazzarsi delle prove hanno usato la candeggina per pulire ma senza successo poi per qualche motivo hanno buttato dei coltelli nel lavandino boh forse pensavano che nessuno avrebbe cercato lì non lo so e poi per sbarazzarsi del corpo hanno deciso di provare a farlo a pezzi e per farlo hanno usato una sega circolare e una motosega ma alla fine non ci sono neanche riusciti per cui hanno deciso di lasciare tutto lì com'era dare fuoco direttamente alla casa e scappare ma il fuoco che avevano appiccato alla fine si è estinto quasi subito lasciando lì ogni prova ora capite perché Peggy e la polizia sono rimasti scioccati quando sono entrati in casa avevano visto Daniel carbonizzato e fatto a pezzi e in quel momento semplicemente nulla aveva senso non c'erano piste non c'erano sospettati e Daniel non aveva nemici ma col passare del tempo come avete visto la verità è venuta a galla e l'unico motivo per cui sono riusciti ad arrestare Aaron e Sierra è perché si trovavano su un bus a Salt Lake City su questo bus ad un certo punto è salito un controllore e ha scoperto che Aaron non aveva il biglietto per cui ha inserito le sue generalità nel sistema di sicurezza per fargli la multa ma da lì ha scoperto che era già ricercato per aver usato la carta di credito di Daniel che ormai tutti sapevano fosse morto quindi ha chiamato la polizia e i due adolescenti sono stati arrestati era il 13 aprile del 2021 ma prima di arrivare al processo vorrei velocemente approfondire ciò che sappiamo sulla relazione tra questi due adolescenti innanzitutto c'è da dire che solo Sierra sa il vero motivo per cui ha ucciso una persona che la amava così tanto dal mio punto di vista è semplicemente incomprensibile perché in teoria avevano davvero un rapporto fantastico e si volevano bene in modo incondizionato ma sicuramente vabbè ci sono delle cose che non sappiamo non abbiamo vissuto la loro vita quindi non possiamo conoscere ogni dettaglio della loro relazione ma fatto sta che un movente c'è stato per forza perché è stato un crimine talmente ferato talmente personale che è impossibile si sia trattato solo di una furia omicida senza senso e anche se non sappiamo con certezza quale sia questo movente possiamo fare delle ipotesi analizzando proprio la relazione tra Sierra e Aaron come vi ho detto prima i due si sono conosciuti verso la metà del 2020 più o meno nello stesso periodo in cui Daniel e Elizabeth sono tornati a processo per decidere a chi spettava la custodia di Sierra e da quel momento si sono innamorati follemente l'uno dell'altra ma ad un certo punto in qualche modo Daniel è venuto a sapere che i due ragazzi volevano scappare da soli di nascosto a Los Angeles e chiaramente era contrario a questa fuga d'amore specialmente perché vi ricordo Sierra aveva solo 16 anni per cui cosa ha fatto Daniel l'ha raccontato ad Elizabeth la madre di Sierra e insieme hanno deciso di parlare con i genitori di Aaron e raccontare tutto anche a loro e dopo varie discussioni tutti e quattro i genitori sono arrivati alla conclusione che sarebbe stato meglio se Aaron e Sierra avessero smesso di frequentarsi così all'inizio del 2021 i genitori di entrambi hanno proibito ai due di vedersi e Sierra vivendo ormai da suo padre ha riversato tutta la sua rabbia solo su di lui anche se pure sua madre era d'accordo con questa decisione ma dato che viveva con lui ed era lui ad avere autorità su di lei diciamo che lo ha preso di mira perché nella sua testa era colpa di Daniel se non poteva stare col suo amato quindi nell'aprile del 2021 si è convinta del fatto che l'unico modo per tornare con il suo ragazzo sarebbe stato quello di uccidere suo padre e scappare con Aaron ma ora arriviamo finalmente ai processi nonostante tutte le prove e alla fine la certezza che fossero stati loro entrambi si dichiarano innocenti i loro processi durano circa un anno durante il quale i due adolescenti continuano a darsi la colpa a vicenda ma alla fine si arrendono e si dichiarano colpevoli più precisamente ragazzi si dichiarano colpevoli di omicidio aggressione a mano armata concorso in omicidio incendio doloso rapina a mano armata tentata rapina e quattro capi di imputazione per uso fraudolento di una carta di credito o di debito insomma sono colpevoli di cose veramente pesanti e si arralza e infatti viene condannata all'ergastolo nel dipartimento di correzione del nevada potrà richiedere la libertà condizionale dopo 22 anni di galera anche aron guerrero viene condannato all'ergastolo nel dipartimento di correzione del nevada e anche lui potrà chiedere la libertà condizionale dopo 22 anni è giusto dirvi che sierra ha cercato di difendersi con una dichiarazione una sorta di giustificazione per l'omicidio ma alla quale quasi nessuno ha mai creduto praticamente ha affermato che suo padre aveva abusato sessualmente di lei e l'aveva spinta a bere alcolici ha detto inoltre che l'aveva traumatizzata e che doveva sopportare questo trauma ogni giorno della sua vita in risposta a queste accuse contro suo padre sua nonna Christine ha detto che non erano altro che bugie inoltre Ben Alcet uno dei fratelli di Daniel ha screditato queste accuse dicendo che suo fratello era un grande padre e tutto ciò che voleva nella vita era essere un buon padre per i suoi figli pensate che addirittura diversi membri della famiglia Alcet hanno detto al giudice che speravano che Sierra ricevesse la pena di morte Aaron invece ha semplicemente chiesto scusa alla famiglia della vittima ma fatto sta che Daniel è stato ucciso e la sua unica colpa che non è una colpa è stata proibire a sua figlia di vedersi con suo fidanzato questo è bastato per condannarlo ad una morte atroce credo che questa vicenda ragazzi sia una delle peggiori che io ho mai raccontato il video in cui confessano è davvero agghiacciante perché ridono si vede proprio che sono spensierati probabilmente ancora non si rendevano conto di ciò che avevano fatto io sono davvero senza parole quindi se voi avete qualcosa da dire prego la sezione commenti è tutta vostra intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui ricordo che oltre ai video che escono ogni venerdì presto ne uscirà uno in più e sarà quello in cui vi parlo della storia che originariamente dovevo includere nel video di oggi ma che poi ho deciso di dividere in due quindi se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao